Negli ultimi anni ci si affascina ancora di più per una cultura anche dell'educazione con i bambini sul passato e quindi i bambini specialmente attraverso i libri, in biblioteca, attraverso anche molte forme quali cartoni animati e i media fanno la loro parte sicuramente affascina, affascina la storia e in questo senso i dinosauri che sono gli animali più grandi e affascinano ancora di più. C'è stata una volontà da parte degli organizzatori, di Zucuf Neumar in particolare e quindi abbiamo trovato un'ubicazione qui nel rio Trodena splendida e come vedete oggi con il sole affascina ancora di più, c'è tanto verde e non sembra neanche di essere in bassa tesina.